Ok ragazzi, all'epoca di Stalin non esisteva ancora Photoshop, ma ciò nonostante il dittatore aveva necessità di fotografi abbastanza bravi da cancellare le persone nelle immagini con la stessa velocità con cui lui le spazzava via dalla vita reale. Di fatto Stalin fu il primo dittatore ad avere a disposizione sia il potere politico sia le capacità tecniche per poter letteralmente riscrivere la storia a modo suo e soprattutto ispirare 1984 di George Orwell. Stalin aveva infatti la pretesa di essere infallibile riguardo alla scelta dei collaboratori e quando un collaboratore lo deludeva o veniva massacrato perché ritenuto un traditore della patria Stalin era solito dare l'ordine di cancellarlo più o meno letteralmente dalla storia. Parte di questo processo tecnicamente richiedeva il recupero delle fotografie in cui il traditore compariva e successivamente la sua rimozione dall'immagine. Qui per esempio vediamo un'immagine di Joseph Stalin con Nikolai Iesov. Nikolai Iesov era un fedele servitore ma agli occhi di Stalin aveva due grandissimi difetti. In primo luogo aveva diretto i servizi segreti e in seconda battuta era troppo efficiente e troppo popolare. Pensate che in Russia all'epoca circolava questa barzelletta. Stalin e Beria, altro politico di grido dell'epoca, vanno in un bar e iniziano a chiacchierare. A un certo punto Beria chiede a Stalin Stalin scusa ma come si fa a capire quando qualcuno è un nemico del popolo? Stalin si beve un sorso di vodka, ci pensa un po' su e poi risponde guarda Beria è semplicissimo. Tu prendi la persona da testare, la porti da Iesov dopodiché se questo sotto tortura gli fa confessare che è un nemico del popolo, è un nemico del popolo. Se invece questo sotto tortura confessa di essere un amico del popolo, è un amico del popolo. Semplice no? Beria sulle prime sorride per compiacere il dittatore ma poi visto che è un vero e proprio fracassa bippi senza amici ci pensa un po' su e domanda scusami Joseph e che cosa succede se Iesov non riesce a far confessare nessuno? Stalin ci riflette su anche lui e poi risponde beh in questo caso dovremmo iniziare a sospettare di Iesov cosa che effettivamente Stalin fece nel 1939 e no, non fu affatto divertente. Il povero ma neanche troppo visto che era stato capo a sua volta della polizia segreta Iesov venne arrestato, venne condotto nello stesso carcere dove mandava i potenziali prigionieri politici lui stesso venne torturato e confessò immediatamente una serie di crimini Iesov ammise di essere un nemico del popolo, ammise di essere un sadico eppure di essere attratto dai maschi alfa russi benché fino a qualche tempo prima avesse una moglie Stalin lo fece eliminare senza ripensamenti e poi diede ordine di modificare la fotografia ed è così che passiamo da questa immagine a quest'altra immagine Stalin, sventuratamente per l'Unione Sovietica ma soprattutto per i suoi collaboratori iniziò a prendere gusto nell'eliminarli con risultati quantomeno grotteschi sotto il profilo della propaganda questa per esempio è l'immagine originale che venne più e più volte ritoccata man mano che Stalin si liberava dei collaboratori ritratti in quella foto la quale alla fine da foto di gruppo divenne un ritratto perché tecnicamente rimase solo Stalin bisogna però dire che Stalin fu sì il ritoccatore più famoso ma certamente non fu il primo anche Lenin infatti ci dava dentro di brutto con le foto shoppate ante litteram per non parlare dell'eliminazione degli avversari qui per esempio si vede una foto di Lenin con Trotsky Trotsky era un suo amico che con il passare del tempo aveva sviluppato una variante del marxismo ad un certo punto i due che erano proprio amici cicci avevano litigato e quasi sicuramente non per questioni attinenti al calcio fatto sta che a una certa Lenin iniziò a chiamare Trotsky usando dei vezzeggiativi che possono suonare come brutto porco, farabutto e piccolo giuda in questo periodo Lenin ordinò la rimozione della figura di Trotsky da tutte le immagini in cui comparivano insieme in alcuni casi la rimozione avveniva letteralmente anni e anni e anni dopo lo scatto originale e naturalmente questo trattamento era riservato ai presunti traditori della patria di un certo livello qui per esempio vediamo Alec Trotsky scrittore che era molto vicino a Lenin ed estremamente distante da Stalin distanza che peraltro gli fruttò una picconata più o meno letale nel 1940 mentre si trovava più o meno in esilio in Messia Stalin, non pago di cancellarlo dall'esistenza lo fece cancellare anche dalla foto in cui compariva con il suo idolo Lenin quindi quando vedete questa immagine capite perché la tribuna ha una forma così strana gli assi che vedete in quest'area sono un fotomontaggio slash un fotoritocco i sovietici comunque abborrendo la divisione in classi della popolazione non è che riservavano questo trattamento soltanto ai presunti governanti agli intellettuali ma lo espandevano anche a diversi cittadini che per un motivo o per l'altro erano divenuti famosi all'interno del patrio territorio qui per esempio possiamo non vedere Gregory Nebulov che era un cosmonauta o quantomeno era un aspirante cosmonauta uno dei 20 eroi selezionati dal programma spaziale sovietico per poter colonizzare lo spazio e arrivare laddove nessun altro capitalista era mai giunto prima e detto fra parentesi lui non era certo un politico un rivoluzionario un filosofo era semplicemente incline ad ubriacarsi a non rispettare la disciplina in realtà esistono poi anche fotoritocchi che non hanno scopi didattici o politici questo per esempio è famosissimo e rappresenta o perlomeno riteniamo che rappresenti una fotografia di Abraham Lincoln peccato che Abraham Lincoln non avesse voglia e tempo per posare e che quell'immagine sia stata ricostruita artificialmente la testa infatti è di Abraham ma tutto il resto appartiene a John Calhoun che fu vicepresidente degli Stati Uniti qualche tempo addietro altre volte i fotoritocchini servivano per far apparire più virtuosi politici qui per esempio vediamo un'immagine di Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale nello scatto originale il caro vecchio Winston stava assaporando un sigaro il dipartimento per la propaganda pensò però che non fosse un comportamento consono per un capo di stato intendo dire te stanno a bombardare, te massacrano l'isola e tu stai lì a fumarti un sigaro non è bello, non è cool qui invece vediamo una fotografia così come venne pubblicata sui giornali dell'epoca relative all'incontro di Bresnev con Willy Brandt che era un cancelliere tedesco della Germania federale Bresnev immagino non abbia bisogno di presentazione l'incontro sembra formale ma in realtà dovette essere relativamente amichevole dato che sul tavolo si trovavano diversi pacchetti di sigarette e soprattutto almeno tre bottiglie di birra in alcuni casi comunque nonostante il trascorrere dei decenni non si è riusciti a capire per quale motivo certi personaggi venissero cancellati dalla storia e dalle foto qui per esempio abbiamo uno scatto dove Hitler è intento a trascorrere una giornata facendo un picnic e voi direte deve essere un fotomontaggio perché Hitler lavorava tantissimissimissimo la luce nel suo ufficio era sempre accesa e sì la luce nel suo ufficio era sempre accesa ma lui non era mai lì per spegnerla perché in realtà lui lavorava pochissimo aveva difficoltà a leggere cartellette con più di 20 pagine all'interno e non sto scherzando sono serio la grande abilità di Hitler era quella di riuscire a convincere gli altri e ad avere fortuna o meno nella scelta dei collaboratori i quali alla fine svolgevano il lavoro anche al suo posto fatto è che per motivi che non sono mai stati chiariti venne ordinata la rimozione della figura di Goebbels il quale peraltro era ministro dell'istruzione e proprio della propaganda e restò in vetta se così possiamo dire fino al 1945 e cioè fino alla caduta vera e propria del regime altre volte è difficile comprendere il motivo per cui determinate persone vengono rimosse da un'immagine quella che state vedendo è la fotografia pubblicata da un quotidiano israeliano la testata si chiama The Announcer e l'articolo relativo all'immagine parla della marcia della pace di Parigi curiosamente da questa immagine sono state cancellate almeno tre donne è stato cancellato il commissario Mogherini che peraltro è un politico italiano è stato cancellato anche il sindaco di Parigi, Anni Hidalgo e soprattutto è stata cancellata perfino Angela Merkel che era il cancelliere della Germania un cancelliere cancellato, interessante e sapete il perché? Perché The Announcer è una testata ultra ortodossa e gli israeliani o meglio gli ebrei ultra ortodossi non hanno un buon rapporto con le donne al potere e detto fra parentesi questo non è l'unico quotidiano comunque l'unica testata ultra ortodossa ce n'è almeno un'altra che si chiama Yated Nehan che è andata anche oltre perché quando è stato nominato il governo Netanyahu che pure non è esattamente di estrema sinistra la testata ha rimosso dalle foto le immagini dei ministri femmina la cosa strana è che ci hanno incollato sopra le immagini di due maschi quindi a occhi e croce sembra che il governo di Netanyahu abbia o una coppia di ministri gemelli oppure ancora abbia due ministri che in realtà non sono tali ma naturalmente gli ultra ortodossi possono dormire sonni tranquilli perché sono convinti che nessuna donna li stia governando altre volte i ritocchi sono puramente estetici e servono per fare una figura migliore qui per esempio vediamo l'antisignano del vero maschio alfa sì, sto parlando di lui proprio lui con la V al posto della U guardate questa pose eroica che è stata certamente fonte di ispirazione per gli man della filmation insomma, guardate come alza la sua spada al cielo dico sul serio alla definizione di virilità c'è questa immagine qui sventuratamente l'immagine completa anzi originale sarebbe quest'altra qua con lui che può alzare la spada al cielo solo ed esclusivamente perché è una destratrice tiene fermo il cavallo e anche più recentemente più precisamente nel 1989 gli esperti di fotoritocco hanno fatto una ninjata incollando su una guida tv il volto di Oprah Winfrey decisamente più giovane di quanto sia oggi sul corpo di una modella svedese la quale peraltro si chiama Anne Magret ed è anche un'attrice di peso avendo recitato in titoloni come Angeli con la pistola del 1961 e Ogni maledetta domenica del 1999 un film con Oliver Stone mica pizze e fichi altri montaggi invece sono a fini umoristici ricordiamoci per esempio della presenza di Keanu Reeves durante quella riunione segretissima alla Casa Bianca in cui si seguiva in diretta l'attacco contro la roccaforte di Bin Laden altre volte ancora si rimuove un terzo incomodo perché fa brutto averlo nell'inquadratura altre volte ancora si rimuove un terzo incomodo perché fa brutto averlo nell'inquadratura è il caso per esempio del primo ministro canadese rimosso da questa immagine dove compare Re Giorgio e la reale consorte altre volte ancora si tratta di una scelta editoriale e a seconda che il giornale sia tendenzialmente conservatore o progressista alcuni elementi della foto possono venire meno qui per esempio ha fatto le spese un immigrato che si trovava su una lancia della polizia è stato infatti brutalmente cancellato dall'immagine e di lui è rimasto soltanto il ginocchio visibile se aguzzate lo sguardo naturalmente ancora oggi le immagini vengono distorte ritoccate e montate per scopi politici per esempio questa immagine del 2008 scattata in Iran aveva lo scopo di far vedere come la dittatura iraniana fosse in grado di lanciare dei missili grandi, grossi e tosti sventuratamente non tutti i missili decollarono come previsto e quindi gli esperti di fotoritocco dovettero rimediare clonando i missili che effettivamente riuscirono a decollare sopra le piattaforme dove i missili restarono al palo ancora più esperti in questo tipo di manipolazione sono i nordcoreani qui per esempio vediamo l'onorevole Kim Jong-un assistere al lancio di un missile mai avvenuto e possiamo accorgerci che quel missile non è stato lanciato da un sottomarino ma semplicemente inserito in sovrimpressione perché se analizziamo il riflesso dell'acqua vedremo che non corrisponde alla scia o alla fiamma del razzo quindi no a meno che zio Vlad non abbia regalato un sottomarino nucleare con relativi missili balistici al piccolo Kim la Corea del Nord non è in grado di lanciare testate nucleari intercontinentali da sottomarini in compenso pare che Kim abbia realmente provato a lanciare in orbita uno zio appeso a una palla di cannone come vettore spaziale per via di un presunto tradimento e come da tradizione sovietica lo zio è anche sparito dalle foto ufficiali ma la foto coreana più ritoccatamente tarocca e tamarra è certamente questa guardate l'epicità dello sbarco a mezzo overcraft se negli anni 80 la Hasbro avesse finanziato un film dei G.I. Joe verosimilmente ci sarebbe stata un'immagine del genere peccato che naturalmente gli overcraft siano stati clonati alla meno peggio nella realtà ce ne saranno stati due o tre al massimo certamente non di più e infine veniamo alla foto più famosa e più ritoccata di tutti i tempi questa i soldati sovietici fanno sventolare la loro bandiera rossa e gialla sul Reistag di Berlino peccato che questa foto sia stata pesantemente rimaneggiata e ritoccata per farla apparire non solo più etica ma anche molto più politicamente corretta nella versione originale infatti c'erano almeno tre dettagli che non convincevano completamente i propagandisti in primo luogo la bandiera come tutte le bandiere di tutte le foto storiche ha la pessima abitudine di fare quello che vuole di sventolare se come vuole lei senza seguire le indicazioni del fotografo le bandiere sono pessime modelle segnatevelo in secondo luogo c'erano troppi edifici civili che stavano andando a fuoco sullo sfondo e dato che la moda tutta putiniana in base alla quale è dannatamente cool distruggere i palazzi con all'interno uomini donne anziane e soprattutto bambini non si era ancora affermata alcuni ritoccatori del cremlino hanno pensato bene che sarebbe stato meglio dare un taglio diverso alla foto eliminando dall'inquadratura gli edifici che erano in fiamme e infine uno dei soldati che stanno hissando la bandiera ha apparentemente due orologi al polso uno sul braccio destro e uno sul braccio sinistro come può un vero eroe sovietico distillato della classe lavoratrice operaia avere non uno ma ben due simboli del capitalismo ai polsi non è che sotto sotto questi eroi vanno a fare saccheggi a destra e anche a manca perché vedendo la foto ci si potrebbe fare anche l'idea sbagliata che questi veri eroi sovietici prima di andare a dissare la loro bandiera abbiano fatto una piccola deviazione saccheggiando qualche casa borghese o giù di lì e quindi anche questo dettaglio è stato rimosso la cosa abbastanza divertente è che questa immagine ha ispirato buona parte degli uomini di sinistra del secolo scorso ed è diventata l'icona di come i sovietici sconfissero i nazicosi ma come spesso accade nella storia c'è molto di più di quello che appare e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ma per qualche strana ragione non vi siete ancora iscritti al canale non avete attivato la campanella non condividete i contenuti e siete perfino sticici di like fate tutto questo aiuterete il canale a crescere e ad affermarsi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto